oggi parliamo del treno ex colico milano centrale delle 5 05 il treno dal 2014 è stato allungato su sonrio e della relativo accorciamento del treno da sonrio colico delle 6 e 14 ne abbiamo già parlato oltre a questo però c'è anche un altro grave danno il treno posposto di 11 minuti alle 5 e 16 ha perso ben quattro fermate calorziocorte olginate olgiate calcobrivio cernus comerate carnate usmate le fermate ora vengono effettuate soltanto domenica e festivi queste fermate avevano un collegamento diretto alle 6 con milano centrale utilissimo e ora lo hanno perso sei giorni su sette era utile soprattutto a chi doveva partire per tutta italia per lavori o vacanze chiediamo di ripristinare le fermate